Tutte le leggi nel tempo hanno bisogno di essere riformati perché l'evoluzione dei popoli, degli stati e della stessa vita delle persone va cambiando e quindi va aggiornata anche l'autonomia, senza però svuotarne i valori fondanti che erano stati istituiti nell'accordo dei Gasperi Gruber che si sta tentando di nascondere e mascherare nel futuro. Furono accordi importanti per quanto riguarda il Trentino e credo che De Gasperi abbia tutelato nell'accordo di Parigi nel post bellico, abbia tutelato in particolare il Trentino. Gli altottesini dicono che Gruber non li ha tutelati per niente, tant'è che lo considerano un po' un incapace, lo giudicano un incapace e quindi noi dobbiamo far fede a quello che è stato fatto e mantenerlo fino in fondo pur nella considerazione di doverlo aggiornare ai tempi in cui viviamo.